questo balcone quanto ci ricorda ricordi ricordi di un tempo passato è così come un tempo passato ovviamente internet non funziona o funziona peggio sì di nuovo sul lago sta tramontando il signor vediamo un po vediamo se riusciamo cosa serve chiedere il messa per spese sanitaria ma magari un attimo che perdonatemi che metto il link ora che ce l'abbiamo ok un attimo è diretta due punti già 600 pure senza link va bene ok bene ottimo eh sì che bello il lago certo però tenete presente che il lago è diverso è diverso rispetto dai giorni ai giorni della quarantena è tornato è tornato quel luogo un po' incasinato che era prima ehm perché è quello che ehm dove ci troviamo al lago di Como nello specifico a Karate Urio nello specifico a casa mia ehm 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 e è un luogo bellissimo ma è un luogo rumoroso di certo non non era quei 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 mesi che che abbiamo passato assieme ehm qui eh non li dimenticherò mai non li dimenticherò mai non li dimenticherò mai perché è evidente che eh e sono stati un periodo incredibile un periodo anche terribile tragico e però a sua volta utile per per trovare certe cose di di noi stessi e forse anche un certo tipo di rapporto fra fra di noi cioè inteso 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 come community eh e non dimentichiamo che queste dirette sono figlie di quel periodo sono dove vi ricordate abbiamo visto arrivare la primavera assieme abbiamo visto abbiamo iniziato a fare le dirette con un po' di neve su sulle montagne e adesso e fino fino arrivare ai giorni in cui in cui c'era il sole è stato è stato è stato vabbè un periodo che sicuramente tutti tutti ricorderemo e speriamo e speriamo di non non ripassarci e questo questo balcone ovviamente mi ha fatto molta compagnia ecco perché io arrivavo qua in quest'angolo con i soliti festi vi ricordate che dicevano ah ma sei in giro oh oh ma cosa stai facendo trasgredisci e cose di questo tipo dici no veramente no non sono in giro e e e quindi e quindi e quindi bene eh torniamo qua torniamo qua per ricordare guarda caso una questione di cui qui abbiamo parlato tante volte e che si sperava dovesse essere dimenticata invece come avete visto ieri c'è stato incredibile eh chiamata le armi da parte di alcune alcune sigle datoriali con findustria con fapi eh copagri eh quasi tutte quelle dell'agricoltura e già lì cioè a un certo punto ma ma cosa gliene frega l'agricoltura del del mess cioè ma ha scambiato con le messi no cioè con eh la mietitura o similari ma vabbè mh con alcune di queste eh stiamo parlando perché ci sono evidentemente degli errori di base eh o quantomeno delle cose che non che non capiamo ma magari anche per cambiare idea noi eh cioè a un certo punto le possibilità possono essere due verrà fuori o che anzi tre verrà fuori che o noi non abbiamo capito niente loro in modo molto eh molto sapiente se ci spiegano dove abbiamo sbagliato o non hanno capito loro e quindi cambieranno idea oppure una posizione politica e come tale e come tale non non è tanto importante andare a vedere se c'è una ragione o c'è un torto però mi sembra doveroso dato che poi è intervenuta avete visto anche stamattina la dottoressa Luisella Costamagna che che boh non gli andava esattamente di 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 tavolare un discorso perché non mi sembrava esattamente ben ben disposta o quantomeno intenzionata a capire di che di che si parlasse eh tutto questo quando la notizia del giorno sono gli scontri in America boh a me ricorda ricorda molto se permettete io per una volta consentitemi un inciso di una roba che non è mia competenza di cui io non non so non ho seguito ma a me ricorda abbastanza la questione Genova quando quando non si sa perché quando al governo va qualcuno che non sta simpatico ai soliti ehm si prende istantaneamente l'occasione per 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 giocare a fare a fare la rivolta va bene beh per chi ha vissuto i fatti i fatti di Genova ehm probabilmente vi ricorderete che seppure oltretutto partendo di da 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 analisi che magari al discorso no global no all'epoca così cosa tipo non erano neanche sbagliate ehm ma ecco vedete scusate giusto per i rumori ecco questo è l'aliscafu che finalmente è tornato a collegare a collegare Como con con l'Alto Lago ovviamente fa rumore e bene così insomma e e quindi e quindi boh insomma sono sempre del parere che le rivolte in piazza chissà come mai quando c'è un presidente virgolette di sinistra per quanto possono essere di sinistra i ehm i presidenti americani non ci sono mai ecco ma neanche qua ehm vabbè non voglio dire che ehm insomma è uno specifico metodo di lotta politica che che la sinistra utilizza cioè quello della delle delle proteste in piazza dei dei poveri e cose di questo tipo però secondo me poco ci manca invece andiamo avanti a parlare di ehm andiamo avanti a parlare di mess ok e spieghiamo così anche qui no adesso arriva un punto così poi si fa la clip e dopo che si è fatta la clip si può anche tagliare tutta la parte dei saluti tutta la parte romantica del ritorno sul lago e cose e cose di questo tipo allora stasera c'è palamara non è l'arena eh guarda non vedo non vedo ora oggi abbiamo visto altri ehm spezzettini di intercettazione non so c'è qualcuno evidentemente che ha avuto in mano e penso ce l'abbiano in tanti il mega file del dell'inchiesta dove viene fuori quando ce l'aveva con me dove viene fuori quanto fosse amico del procuratore di di quello quello del 49 milioni dove viene fuori che quello del tribunale dei ministri diceva a lei datelo a me grande io sono uno squalo va bene va bene così facendo vediamo di richiudere ancora una questione che per voi purtroppo è già stata sviscerata tante volte in nelle altre dirette pronti 5 4 3 2 1 0 allora significa essere un credito privilegiato semplice il mess gode di uno status analogo per statuto a quello del fondo monetario internazionale quindi significa che anche qualora dovesse precipitare la crisi che la banca centrale non dovesse più intervenire che dovessero pensare che dovessero pensare di farci uno scenariello tipo grecia dove a un certo punto dicono eh beh a un certo guardate mi spiace ma invece di avere 100 sul nominale dato che la situazione è grave 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 invece riavrete 80 90 70 o così questo tipo bene il mess essendo creditore privilegiato è assolutamente esentato da questa questione vale a dire che l'eventuale scenario tipo grecia no si rifà su tutti gli altri detentori eh di debito e non sul mess stessa roba qualora dovesse implodere l'Europa cioè se l'Europa prende e si ehm eh litigano tutti e a un certo punto tutto si eh ritorna tutti gli stati ritornano eh alla propria moneta al proprio al proprio status pre eh eurozona cosa che può succedere litiga la Germania ancora con con la Francia la sentenza di Karlsru e così questo bene è presumibile che quasi tutti gli stati quantomeno quelli che avrebbero una valuta eh di valore inferiore all'euro possano riconvertire tutto il proprio debito nella nuova valuta bene anche in questo caso la parte del mess non verrebbe toccata perché si tratta di eh un contratto di diritto estero quindi qualsiasi tipo di rischio possibile che ci possa essere o che possa essere percepito sul titolo di Stato e che non è certo mia intenzione ehm auspicarlo o valutarlo ma il mercato così percepisce perché se no altrimenti non ci sarebbe lo spread lo spread esiste proprio perché uno di questi due rischi eh viene percepito come possibile se la situazione debitoria dell'Italia diventasse insostenibile le vie d'uscita sono due stai nell'euro stai nell'Europa continui a stare lì bene ti imporranno un sistema greco vale a dire un taglio del eh del del debito eh non vuoi sottostare tu al tu Europa al taglio del al taglio del debito al taglio che ovviamente avrebbe delle delle conseguenze devastanti su eh tutto il nostro sistema bancario sul risparmio e similari bene la via d'uscita potrebbe essere quella di riprendere la propria valuta nel qual caso probabilmente la la valuta potrebbe non ne sono sicurissimo svalutare un po eh rispetto all'euro e quindi il creditore estero no potrebbe essere danneggiato dalla svalutazione tutti questi due rischi tutti questi due rischi entrano a far parte del famigerato spread bene se noi facciamo un eh eh un un credito privilegiato quindi vale a dire in valuta eh in in legge estera eh e privilegiato vale a dire esente da ogni rischio di taglio di haircut no del del debito quindi dal sistema alla greca eh ecco che il tasso di interesse ovviamente è più basso quanto basso? Beh molto probabilmente sarebbe uguale a quello che in questo momento è eh considerato l'attività priva di rischio in Europa vale a dire quella del Bund tedesco vale a dire meno zero cinque per cui non è un tasso conveniente perché non devi confrontarlo con un tasso fatto in una maniera diversa con un contratto diverso è assolutamente assurdo e mi mi stupisco veramente mi stupisco che fra questi firmatari ci sia l'ABI che bene o male dovrebbero intendersene di tassi di interesse ma voi banche voi signori dell'ABI che tra parentesi ammettete qualche volta vi sbagliate pure quando vi avevano chiesto l'opinione sul Beilin eravate d'accordo adesso giustamente avete cambiato idea ma forse evidentemente nei vostri uffici c'è ancora qualcuno che prende delle decisioni o fa delle analisi sballate che è lo stesso che vi aveva portato a essere d'accordo sul sul Beilin e poi è arrivato a casa vostra a bussare la porta il Beilin ecco cercate questo vostro analista che forse non capisce bene le cose e magari gli diamo un altro lavoro gli diamo un altro incarico più adatto alle sue personalità ecco non so come dire perché voi banche dovreste saperla la differenza tra un credito chirografario e un credito privilegiato ma se voi banca avete un'impresa cui storicamente fate credito e avete avete un credito con determinate caratteristiche nei confronti questa impresa ma se sapeste che questa impresa a un certo punto zitta zitta va da un'altra banca e prende dei soldi da un'altra banca con un credito privilegiato rispetto ai vostri ma che cosa gli fate siete contenti quando dopo verrà a ritornare anche da lei a chiedere dei soldi non vorrete anche voi avere lo stesso trattamento so io a meno di non essere un benefattore sapendo che questo stesso cliente prende a prestito denaro da altre parti con un credito privilegiato arriva da me e gli dico caro signore veramente lo vorrei anch'io il credito privilegiato perché se no che succede no quindi vedete mi faccia una bella ipotechina e cose di questo tipo beh signori è così è normale è normale se io mi metto a segmentare il mio il mio debito tutti vorranno essere privilegiati e quando tutti saranno privilegiati non lo sarà nessuno l'unica differenza che a quel punto qualsiasi tipo di cambiamento o di ipotesi sarà semplicemente ancora più catastrofico e lo sa benissimo chi è sceso su questo su questo gradino della segmentazione del debito ed è per esempio l'argentina ecco non mi va sinceramente di far fare al mio paese la fine dell'argentina e non mi va neanche sinceramente di essere diciamo di vedere dei giornalisti che non vogliono comprenderla questa questione perché quando hanno parlato quando hanno seguito la storia della banca etruria beh anche lì era una questione di privilegio su debito su credito le famose obbligazioni subordinate della banca etruria erano subordinate perché c'era un'altra parte di debito che invece era privilegiato ad essi mettete mettete la scala come volete no del debito quindi cosa succede succede che a un certo punto sono arrivati dei guai sulla banca etruria e chi è l'unico che l'ha presa male il risparmiatore che aveva le obbligazioni subordinate ecco dato che noi abbiamo appena collocato 30 miliardi di 20 e qualcosa miliardi di btp italia non credo sia una buona idea informarli poche settimane dopo il collocamento che loro cioè tutti quelli che hanno sottoscritto tutti i cittadini che hanno sottoscritto il debito italiano diventano improvvisamente subordinati rispetto al messo non mi pare il caso e infatti guarda caso nessuno nessuno lo vuole perché il problema della seniority è grave anche quando la spagna fece ricorso al mess negli anni nell'anno 2012 non risolse il proprio problema di finanziamento infatti lo spread continua andare anzi lo peggiorò eppure aveva aveva ottenuto che non fosse debito subordinato proprio perché quella cosa conta debito privilegiato scusate perché perché la questione conta per cui confrontare il rendimento di due prestiti che sono diversi è una sciocchezza il motivo per cui poi è pericoloso prendere ed affidarsi a un debito privilegiato è che poi tutti lo vogliono e allora a quel punto vedete che se io comincio a emettere se io continuo a emettere il debito come prima i miei tassi salgono e istantaneamente vedete che il vantaggio illusorio che io pensavo di avere con il tasso di interesse sparisce perché la gente giustamente mi percepisce come più a rischio e vuole un tasso più alto se invece vogliono tutti il privilegiato stai fregando semplicemente tutti quelli di prima chiaro chiaro perché non va bene chiaro perché non puoi confrontarlo e quindi e però e però c'è un punto molto interessante secondo me vale a dire se il grande argomento è il tasso di interesse o la modalità di finanziamento del debito perché in altra occasione vi ho spiegato che è altrettanto una cretinata pensare che ci sono dei soldi e noi non li prendiamo e quindi non possiamo fare determinate cose non funziona così prima si stabilisce quanto deficit vogliamo possiamo fare dopo si decide come finanziarlo quindi non non è ci sono dei soldi e quindi non facciamo non li prendiamo e quindi non facciamo determinati lavori determinati lavori si possono fare in qualsiasi momento l'unica questione l'unica questione quindi non è farli non farli l'ospedale il 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 morto il poverino il bambino il disperato l'unica questione è il risparmio di interessi quindi ci finanziamo sul mercato normalmente oppure ci finanziamo in questa maniera virgolette risparmiando interessi ecco vi ho spiegato il motivo perché si risparmiano gli interessi e perché è pericoloso ma soprattutto ma vi sembra normale che a fronte di duemila e passa miliardi di debito pubblico improvvisamente diventa interessante o ci si occupa la copagri si mette a ragionare sui sistemi ma anche la stessa confindustria ma anche la stessa confapi si mettono a ragionare sui sistemi di finanziamento del debito ma io ricordo una persona che ha alzato il ditino in passato per poter dire ma scusate ma noi stiamo va tutto bene il sistema o i modi con cui noi abbiamo finanziato il nostro debito le scelte che abbiamo fatto per finanziare il nostro debito e io me ne ricordo una che è questa qua che vi sta parlando perché altrimenti c'era soltanto un gran applauso vi ricordate c'era una signora che gestiva il debito all'epoca che era la signora cannata adesso è cambiata no tutti dei gran applausi bravi bravi bravissimo bene io avevo scritto all'epoca una cosa pubblicata sul sito di asimmetrie esattamente relativa alle scelte speculative su il scelte speculative sulla decisione di finanziare il debito perché seguitemi bene siamo alla fase precedente decidiamo quant'è il deficit ok decidiamo quant'è il deficit al deficit vale a dire quindi alla parte aggiuntiva quella che avanza dalle tasse che dobbiamo finanziare si aggiunge poi la parte di debito che scade e che deve essere ricollocata quindi ogni anno il tesoro ha un tot di miliardi di titoli del debito pubblico da dover collocare prima della grecia non è mai stato un problema ci siamo era considerato esattamente totalmente sicuro quindi anche serve anche perché che ne dica che dice ah ecco il rischio per l'italia è l'uscita dall'euro no lo spread è emerso con la grecia quindi con il default con uno dei dei due rischi percepiti no diciamo così quindi emerso con il primo dopo che i titoli greci sono stati fatti fallire tutti hanno cominciato a considerare che fosse pericoloso e da lì è iniziata la crisi sullo spread utilizzata per cacciar via berlusconi arrivato monti storia patria che prima o poi verrà 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 discussa ma altrimenti prima non c'era nessun tipo di rischio per l'emissione dei titoli di stato quale fosse il quantitativo quindi la scelta di dire che titoli emetto per finanziare il mio debito era totalmente discrezionale del tesoro e qui forse cominciamo a toccare un nervo importante attenzione qui tocchiamo un nervo importante qui andiamo a toccare cose di cui è meglio non parlare infatti io ve ne parlo ok perché se noi andiamo a vedere cosa sono alle grandi battaglie perché ho tagliato le auto blu o cose di questo tipo bene ma vi sembra che sia la stessa cosa finanziare 2 mila miliardi di debito al 4 per cento o al 1 per cento tutti quelli che adesso sono lì a guardare cosa potrebbe essere il risparmio con una differenza dell'uno per cento che peraltro non c'è fra per 36 miliardi di finanziamento fra utilizzare il mess e invece utilizzare uno strumento come può essere il btp italia o qualcosa del genere a tutti li ecco vedete questa roba darebbe la differenza di 300 milioni all'anno che moltiplicata per mille anni fa fa 300 mila miliardi ecco tutti questi che ragionano di questa cosa ma hanno mai obiettato da lontano se quando i tassi di interesse era il 4 per cento è stata presa la decisione di allungare la scadenza del debito e portarlo a tasso fisso che va interessa ma vi è mai interessato qualche commentatore politico ne ha mai parlato l'abbiamo mai visto in qualche giornale abbiamo mai visto uno che si ponesse anche solo il problema no lo faceva il tesoro la gente continua a guardare e lo fa ancora adesso e continua a guardare le aste dove dicono questo mese abbiamo emesso 10 miliardi di btp no e così questo tipo bene il debito può essere rifinanziato con diversi strumenti può essere finanziato con i bot che sono titoli di stato a breve scadenza quindi dopo sei dopo tre mesi sei mesi o un anno scadono poi ci sono i bot a 99 mesi che sono quelli che esistono nella fantasia di fubini che ci scrisse un famoso un famoso articolo no ma al di fuori della fantasia di fubini i bot sono tre mesi sei mesi o un anno ok quindi a breve scadenza li emetti e poi dopo scadono e poi dopo li rimetti li rinnovi poi ci sono erano molto popolari all'epoca erano molto popolari i cct vale a dire i titoli di stato a tasso variabile vale a dire dei titoli di stato che possono essere hanno avere delle diverse indicizzazioni e possono essere e prendono praticamente il tasso di interesse dell'anno quindi se quest'anno il tasso di interesse 0 il loro tasso interesse sarà 0 se l'anno prossimo è 2 sarà 2 se poi torna a 0 sarà 0 e quindi rimangono grosso modo sempre diciamo in linea con i tassi di interesse correnti poi ci possono essere i titoli come per esempio il btp italia quelli che hanno appena emesso che sono dei titoli indicizzati all'inflazione tali per cui sia che sale o sia che scende l'inflazione il loro valore si indicizza appunto a questa inflazione e poi ci sono i btp i btp che possono essere di lunghezze differenti fino a 30 anni o anche oltre che sono a tasso fisso facciamo molta attenzione se io emetto dei titoli a tasso fisso come il btp che conseguenze ne ho beh la conseguenza è molto semplice sto facendo una scommessa perché se i tassi di interesse sono o erano il 4 il 5 il 9 il 12 per cento e io faccio un btp significa che per tutta la vita del btp lo stato pagherà sempre quell'interesse e uno dice beh ma allora non rischi e no perché dipende da cosa succederà in futuro se io emetto un btp al 5 per cento a 30 anni significa che per 30 anni lo stato pagherà al 5 per cento se i tassi di interesse saliranno quindi se i tassi di interesse andranno al 6 al 7 al 12 al 50 lo stato continuerà a pagare il 5 per cento e quindi avrà fatto un ottimo affare e un pessimo affare l'avrà fatto chi l'ha comprato questo titolo perché ha il 5 per cento di interesse quando basta che si giri intorno e tutti prendono il 20 di interesse ci siamo viceversa viceversa se tasso di interesse il 5 per cento per 30 anni e invece i tassi di interesse vanno a 4 3 2 1 per lo stato si rivela un pessimo affare perché questa discesa dei tassi non avrà nessun beneficio sul costo che io sostengo per pagare il mio debito quindi chi si preoccupa in questo momento sulla differenza fra 1 e 0,5 per il mess ma non gli viene forse il sospetto di poter andare a guardare l'innumerevole numero di titoli che ci sono ancora in giro al 4 per cento e non viene di andare a chiedere a chi le ha emessi o a chi ha deciso di fare questa questa scelta del perché ha sbagliato a farlo perché noi vi verrà sospetto questo enorme quantitativo di interessi che paghiamo sul debito pubblico ogni anno e abbiamo da pagare quest'anno 50 miliardi 60 miliardi di interessi sul debito pubblico ma uno dovrebbe dire ma perché se i tassi sono a zero se i tassi sui bot sono negativi se i tassi oltretutto sui titoli riacquistati dalla banca centrale si azzerano e forse qui comincia a farvi capire l'idea di chi ha anche pensato dell'azzeramento degli interessi sulla banca centrale perché potrebbe anche essere qualcuno che questo errore nella valutazione dell'emissione dei titoli l'aveva fatto se qualcuno potrebbe averci pensato no in passato che si poteva fare scelte diverse qualcuno poteva aver pensato che magari si potevano emettere dei titoli a tasso variabile qualcuno ha guadagnato chi ha comprato i titoli qualcun altro ha perso lo stato lo si può sapere lo si poteva sapere con certezza ovviamente no lo sapete non sono un se vede vista ex post magari potevo anche io pensare che i tassi di interesse una volta arrivati al 4 non sarebbero non sarebbero più scesi c'era però io era un passante se chi invece doveva fare questo tipo di analisi l'ha fatta e l'ha fatta sbagliata perché i tassi di interesse alla fine sono scesi quindi quando negli anni successivi qualcuno al ministero del tesoro ha preso la decisione di emettere tutti i titoli possibili a tasso fisso e a lunga scadenza ha fatto una scelta e attenzione per riuscire a rafforzarla questa questa scelta sono stati fatti anche i famosi derivati vi ricordate i famigerati derivati con la morgan stanley e così via quelli per cui ogni anno noi dobbiamo pagare dei soldi ecco questa è stata una scelta qualcuno al tesoro ha fatto questa scelta di finanziamento questa scelta di finanziamento e stiamo parlando di anni fa si è rivelata ex post sbagliata perché i tassi di interesse dal 4 per cento invece sono andati costantemente e ancora scendendo da questa scelta l'italia ha perso decine di miliardi ogni anno ok decine di miliardi ogni anno e ancora li stiamo perdendo e questo costo è la differenza fra il finanziamento che noi adesso paghiamo e quanto è il costo del tasso di interesse questa sarebbe un'interessante inchiesta avete voglia di farla voi giornalisti avete voglia di andare a prendere per esempio appunto la signora cannata che ci ricordi se decise lei chi le diede ordine di fare di fare questa cosa che ragionamenti c'erano alla base se fu informato e come il parlamento della scelta che che si andava a fare di come viene valutata questa questa sua idea perché sa ogni volta che quando uno parla del mef dall'altra parte dove c'è dentro della gente eccellente vedete che parte una specie di chiusura a riccio i nostri lavoratori il mef i funzionari l'orgoglio del paese sì certo il mef funzionario l'orgoglio del paese fanno un lavoro incredibile ma qualcuno sbaglia sbaglia il politico a fare leggi del cazzo quante volte sono state fatte delle leggi sbagliate ex post si dice era sbagliata la legge sul bail in era sbagliata niente di strano ne abbiamo viste le conseguenze dopo però 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 voi capite questa anomalia l'anomalia è la seguente vale a dire noi adesso abbiamo la confindustria il labi la confapi gli agricoltori e così questo tipo che vanno a disquisire su il metodo di finanziamento di una piccolissima parte del nostro debito ma capite che è molto strano ma cosa mi vorrebbe da dire cosa centrate voi vogliamo aprire una nuova stagione dove si va a discutere dove si si mette becco su cosa possono essere le diverse scelte del tesoro per finanziare il debito del perché ha emesso un bt p italia con quelle caratteristiche invece che un bot del perché ha emesso un bt p invece che un cct del perché ha emesso un tasso fissa invece che un variabile ottimo allora parliamo di tutto ma altrimenti ma altrimenti se invece è una questione esclusivamente legata al mess mi viene il sospetto che la motivazione non sia questa nobile idea del risparmio dei tassi di interesse capite se queste categorie sono cioè vorrei che si capisse del perché l'ho presa così alla larga del perché voglio arrivare qua perché se queste categorie sono preoccupate del risparmio di interessi delle emissioni per il finanziamento del nostro debito allora apriamo il libro e parliamo di tutto perché questa è una micro parte del finanziamento del nostro debito e allora mettiamo a far discutere gli agricoltori se è più opportuno emettere un bt p piuttosto che un cct piuttosto che un bot ok se invece se invece l'intento non è andare a discutere appunto su le modalità di finanziamento del debito pubblico ma i motivi sono altri e quindi sono motivi politici allora scusate forse sarà opportuno che magari questi motivi politici vengano dichiarati avete fatto questa dichiarazione perché perché aveva chiamato uno del pd e vi ha detto dite così oppure c'è qualcuno dentro nei vostri uffici studi nei vostri sistemi che forse risponde al pd e quindi voi vertici in buona fede avete semplicemente preso una nota da parte di qualcuno al vostro interno che invece non lavora nell'interesse della vostra della vostra associazione e questo mi riferisco ovviamente in particolare a confindustria ve lo ricordate il report dell'ufficio studi confindustria dove diceva che se fosse passato il no al referendum quello di renzi ci sarebbe stato il crollo del pil miliardi persi e cose di questo tipo il responsabile ufficio studi mi pare che sia cambiato ma magari viene da sotto andiamo a cercare rendetevi conto di chi avete all'interno che non lavora per voi che non lavora per il bene delle vostre imprese che non lavora per il bene dei vostri associati fate una due diligence io so che buonomi è persona lo conosco da tempo è persona assolutamente integerrima assolutamente integerrima lo dico per lui è utile andare a cercare capire come vengono fatte determinate decisioni è venuta la dottoressa panucci direttore generale confindustria in in audizione alla camera e ha detto per noi sarebbe buona cosa avere il mess io sono andato da lei le ho detto ma guardi guardi dottoressa che secondo me non è una buona idea il mess quantomeno confrontare i tassi perché c'è la questione del debito privilegiato ho letto nel suo volto un chiaro interesse all'argomento e una promessa di vederci e parlarne ci vedremo ne parleremo e ne sono molto contento ne sono molto contento io non sono qua per contrappormi figurarsi a confindustria men che mai sono qua con una confindustria presidenza bonomi che ripeto una persona che conosco da ben prima della questione del fatto che sia diventato presidente di confindustria quindi io sono assolutamente qua per spiegare sono qua per spiegare a voi figurarsi figurarsi se se non voglio confrontarmi o spiegare con confindustria e se per caso mi faranno degli argomenti migliori rispetto ai miei guardate io verrò qua con la stessa faccia con cui vi ho sempre parlato e vi dirò ragazzi avete presente quelle 50 dirette che vi ho fatto sul mess non ho capito niente mi hanno spiegato delle cose che a cui non avevo non avevo pensato in realtà al mess ci conviene ma lo farei ma credete ma scusate ma credete allora io sono stato nella la mia vita professionale io l'ho fatta sui mercati finanziari se c'è una cosa che non devi fare durante i mercati se vuoi lavorare bene sui mercati finanziari è affezionarti alla posizione hai comprato un titolo il titolo continua a scendere oppure allora no non lo vendo perché aspetto perché è ma dopo tutto quello che ho detto dopo tutto quello che il lavoro che ho fatto per capire che quel titolo andava comprato adesso come faccio a venderlo no nel momento stesso in cui appare una un'idea diversa tale per cui tu se tu arrivi quella mattina lì ti svegli e arrivi in ufficio e quel titolo non lo compreresti quel titolo in portafoglio non devi averlo ai giovani trader quelli che facevano scuola ci sono i software che gli cancellano il prezzo di carico del titolo perché lui ogni giorno il trader ogni giorno deve essere contento delle proprie posizioni devi arrivare alla mattina in ufficio e se avessi soldi freschi lì da investire dovresti comprare esattamente la posizione dei titoli che hai quindi il mio ego è corazzato con queste cose non è che ho paura avrei paura di fare brutta figura o cose di questo tipo ma assolutamente no ma cosa me ne frega io tranquillamente tranquillamente verrei qua e vi direi guardate è una cosa incredibile uno mi ha spiegato una cosa tale per cui non ci avevo mai pensato ve la racconterei e dopodiché vi direi il mess ci conviene credete 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 veramente che avrei problemi a farlo no viceversa però penso di riuscire a capire se il mio interlocutore avrà di fronte agli argomenti che posso esprimere posso portare avanti una posizione ideologica oppure no qualora la posizione fosse ideologica fosse politica mi spiace molto ma molto ma molto pericoloso molto pericoloso perché qui non si sta scherzando non sono piccole cose decidere toccare il nostro debito pubblico i nostri finanziamenti giocare con le seniority e così via non è una piccola cosa non è una cosa che si può fare così non è una cosa che si può fare così perché c'è stata la telefonata di renzi o perché c'è stata la telefonata di misiani o perché c'è stata la telefonata di franceschini o di chiunque altro le ambizioni di qualcuno o la telefonata da parte di del tesoro di rivera di gualtieri ecco le ambizioni di qualcuno o meglio ancora se le ambizioni di questo qualcuno portano delle costrizioni tale per cui di così o altrimenti ti scordi cosa ecco forse devono essere tirate fuori esattamente nello stesso modo scoperchiate esattamente nello stesso modo con cui sta venendo scoperchiato il verminaio delle intercettazioni al vertice della magistratura dove assolutamente fregandosene della verità dell'utilità per una vita politica sana o del paese quattro amici a cena a roma decidevano o sghignazzavano su come dovessero essere le sentenze su chi dovesse essere promosso su chi faceva comodo avere in quell'ufficio rispetto a un altro voi capite che forse anche basta con questo sistema forse basta con questo sistema fa già schifo vederlo all'interno di una certa magistratura io sono certo che faccia schifo per primo a quei tanti magistrati sparsi nel territorio e non nelle cene insieme con palamara che fanno il loro mestiere dalla mattina alla sera intanto si rendono conto che cosa facevano certi loro colleghi e dall'altra parte io sono abbastanza convinto che può essere che sia di interesse di certi agricoltori di certi industriali di certi lavoratori che magari vorrebbero avere una determinata idea e vedono che invece qualcuno all'interno delle organizzazioni che deve rappresentarli segue altre logiche quindi è importante capire quali sono queste logiche se ci sono se c'è davvero interesse a capire di che diamine si sta parlando oppure no perché come ripeto toccare il debito pubblico e parlare dei sistemi di finanziamento del debito sono cose importanti e bisogna farci molta 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 attenzione